Il lago Maggiore perde ossigeno sul fondo perché piove poco, quindi c'è minore movimento. Diminuisce invece il fenomeno dell'antibiotico resistenza. Sono due degli aspetti evidenziati nella 51esima riunione della Commissione Internazionale per la Protezione delle Acque Italo-Svizzere, che si è svolta a Orta San Giulio. Lo stato dei laghi e dei fiumi è stato sotto l'interingrandimento della ricerca nella due giorni di lavori. La Commissione nasce nel 1972 con l'obiettivo di studiare e monitorare la situazione dei laghi, Lugano e Maggiore. Per il lago Maggiore, il secondo lago più studiato in Europa dopo il lago di Costanza, le ricerche condotte dai ricercatori dell'Istituto di Ricerca sulle Acque e del Consiglio Nazionale delle Ricerche per l'anno 2022 hanno evidenziato che il cambiamento climatico, con la costante riduzione delle piogge annue, fenomeno più marcato in primavera e in autunno, e l'aumento delle temperature medie sia dell'aria che dell'acqua, comporta la forte riduzione di apporto di acqua dei fiumi immissari, quindi una minore movimentazione delle acque in profondità, con la conseguente perdita di ossigeno al fondo. Sul versante dei nutrienti si evidenzia la riduzione dei diversi composti dell'azoto, mentre il valore del fosforo rimane stabile. Il dato più evidente è invece la costante diminuzione del fenomeno dell'antibiotico resistenza, ovvero il fenomeno per il quale un batterio risulta resistente all'attività di un farmaco antimicrobico, imputabile ad un grande uso di antibiotici, che ha segnato un grande miglioramento a partire dal 2020 e che si è consolidato con la fine della pandemia da Covid-19, calo dovuto molto probabilmente a un uso più consapevole di alcuni importanti antibiotici nel bacino del lago. Quest'anno spettava il Piemonte organizzare l'incontro della Commissione e la riunione, su mia iniziativa, si è tenuta ad Orta San Giulio, commenta l'assessore regionale dell'ambiente Matteo Marnati. Una due giorni che ci ha permesso di comprendere meglio cosa sta accadendo e fare previsioni per gli scenari che potrebbero prospettarsi tra dieci anni.